Nuovo video di GTA V, torniamo a fare una rapina, l'ultima che ci manca ovvero l'imbroglio Quindi teoricamente facciamo finta di essere dei sorti di meccanici che devono sistemare tutto con questo bel furgoncino e questi vestiti Entriamo entro il casino senza farci beccare, andiamo lì, rubiamo tutto e ce ne andiamo Elettricisti o idraulici più che meccanici? Water and power, quindi siamo sia elettricisti che idraulici, tutto a fare Perché non mi fai entrare il furgone? Vai! Muoviti, e rimani dentro per sempre Mamma mia, il personaggio deve fare il giro dell'isolato per entrare il furgone Ferri, li vedi quei tubi? Te li do in testa Va bene, vai! Perché abbiamo dei coni davanti alla macchina? Per dire che facciamo incidenti Ah, per la selezione No, Steffo E mi rubiamo i coni davanti Sono carine perché se quando ti fermi ad aggiustare tipo una fogna li metti in strada Allora, devo dirvi delle cose In questo colpo abbiamo soldato una pistola di ceramica Di ceramica? Sì, perché così non veniamo beccati dei metal detector Ah, ok, furbo Quindi se ci facciamo beccare dalla polizia perché siamo scarsi ad andare in giro Facciamo le persone strane che quindi vengono notate E quindi ci iniziano a sparare Abbiamo solo una pistola che tra l'altro è ceramica Quindi io vi consiglierei di fare le cose in modo serio Di comportarci bene Facciamo le cose in grazia di Dio per una volta nella nostra dannatissima vita Ti passiamo con il rosso, non sei serio Ti spacco la faccia Siamo in emergenza, Marci È in emergenza fognature C'è puzza Si sta allagando il casino, dobbiamo correre Ti bagnano i soldi poi, è un casino Eh, esatto Comunque ci ho fatto i seri, punto Ok, perfetto Una volta nella vita Va bene? Tutto chiaro Già abbiamo felato quello furtivo Chissà questo Sto parcheggiando Oh, dai però Già questo non è un comportamento normale Prendere una palma Arriviamo a quel canio sfondato Esatto Vabbè, abbiamo avuto un incidente Guardate i coni, raga Sono schiacciati No, le vedi solo tu Siamo stati tamponati Io li vedo schiacciati Da un'auto E quindi Siamo venuti a lavoro Anche dopo un incidente Siamo proprio professionali Sono bravi persone Basta Parcheggia qui Steph Tranquilla C'è la guardia Niente armi Camminate Io non ho armi Non correte Non correte Non correte Perché le persone si sospettiscono sempre Quando si corre Come se uno non potesse correre Nella sua vita Non è vero Ha fatto la corsetta Ti ho visto Non fate neanche gli sprint Ragazzi Niente Hai fatto la corsetta Ti ho visto Vuoi un pugno? Piano piano Rilassiamoci ragazzi Prendiamoci il sole Godiamoci la bella giornata Non so se hai visto Che state facendo ragazzi? Una volta che è giorno Per favore Godiamocelo Infatti È giorno raga È giorno No raga Perché è una missione Quindi è sempre giorno Ecco perché Forza adesso possiamo correre un po' Ecco l'inghippo Va bene Allora Buongiorno Piano 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 Che qui ci sono le tre camere Salve Tutto bene? Guardate come entriamo in relax Vabbè certo Dalla porta Noi siamo i finti idraulici Bravi persone Dobbiamo arrivare alla lavanderia E lì teoricamente troviamo le armi migliori Ok Che non troveremo Lo so già Teoricamente Teoricamente Le hanno nascoste talmente bene Che non le troveremo Però Noi prendiamo quelle armi Continuiamo ad andare avanti Senza farci beccare E poi spariamo solo alla fine Perfetto Noi non utilizziamo le armi Io vorrei fare la no gun challenge Sì credici Puoi superare alcuni dipendenti Alcune telecamere Senza allertare le guardie Ok Ah quelli bianchi Quelli col cosino bianco Quelli rossi Con il tuo travestimento Puoi passare attraverso il metal detector Senza far scattare l'allarme Ok Se prendi un'arma E passa attraverso il metal detector Metterei in allerta le guardie Perché ovviamente Noi abbiamo quelle in ceramica Quindi sappiamo Che quelli rossi ci beccano Quelli bianchi come lui No Esatto Questa è un'informazione molto utile Tranquillo Stiamo andando a pulire tutto Stiamo andando a sistemare tutto Metal detector Ok Allora raga L'ho sentito suonare Tutto bene In famiglia Sto facendo suoni brutti Occhio alle guardie rosse Sì andiamo Andiamo Ok Che paura Sentiamo la puzza Stiamo andando a lavorare Sentiamo Sentiamo Allora dobbiamo rimanere qua dentro Ok Quando vuoi torna in la zona Qua dentro Dove staranno le armi Stef? Non so Cerca te in giro Secondo me bisogna andare vicino alle cose E prima o poi Verrà fuori tipo scritto Eh lo spero Nei detersivi Allora un buon Allora secondo me Un buon posto sono le lavatrici Tipo nascoste nel cestello Però Esatto Sto comprando gli armadietti Oppure qua I cesti di roba sporca Ma non c'è nulla Non vorrei che le armi Noi le possiamo prendere dopo Perché dopo dobbiamo prendere anche un altro travestimento Non vorrei che siano dopo Assieme al travestimento Eh ma qui allora che devi fare? Qui dobbiamo riuscire ad andare in semiterrato Senza farci beccare E allora andiamo in semiterrato Allora tutti assieme a me In fila indiana come i bambini delle elementari Va bene presi per mano In coppie Seguitemi Allora andate Ok Ok Piano piano ragazzi Con calma Sono rilassati oggi Veloci Camminando Esatto Piano piano Questa è una guardia buona Sì però aspettate la guardia rossa che è andata indietro È una guardia stupida Ragazzi Ragazzi Ci sta mirando Perché mi pare Tutto casino No eravamo fermi Steph Eravamo fermi Raga io ho sentito un rumore da uno di voi eh No 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 raga io ho sentito un rumore Mettetevi la maschera Raga io ero l'ultima E nessuno si è mosso Te l'assicuro Steph Sta roba è assurda Cioè le guardi altro che bianche Allora Ma perché questo non lo posso aprire? Raga però non ha senso sta cosa No non ha senso no Occhio che vi sparano attraverso i vetri eh Esatto Sto uccidendo questi due Li ho aperto qui Ma perché ci ha beccato? Con le bianche non dovevamo essere tranquilli Vabbè Non lo so io da uno di voi ho sentito un rumore Come se avete spaccato un vetro No Steph No Guarda Uno non c'erano vetri Perché era un corridoio Io sono già alle scale ragazzi Forza Anche io ti seguo Ti dicevo Steph Era un corridoio e non c'erano vetri Due Io ero dietro voi Perché ero l'ultima della fila E ti assicuro che nessuno ha fatto niente Vabbè Se devo sparare tutti La guardia ci ha Ci ha proprio guardati E ha detto Cioè spariamogli Sì E ha tirato fuori l'arma Non lo so perché Non lo so perché Ed eravamo tutti Steph Tutti fermi che camminavamo Sto sicurissima guarda Non vi credo No 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 Sto sicura Vabbè di qua di qua di qua Io mi devo anche rimettere un giubbotto Cioè raggiungi uno dei tastierini ragazzi Ah no ok Quello in fondo Quello in fondo Perché teoricamente da qualche parte Dovremmo trovarle le armi Mi raccomando attenti Se siete bassi Ve lo urlo Che se no non mi sentite Io sono pieno Cosa Fere? Giubbotto Ok 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 Non mi sento neanche questo K indietro un attimo Vi metto il giubbotto Allora dove stai andando Steph? Sto facendo il tastierino qua Ok Fai il tastierino Non so Vabbè Tastierina tutto Vabbè fatto Lo lascio aperto così Allora Vediamo un attimino Armi qua non ce ne sono No Mi tiro un attimo i giubbotti Antiproiettili e snack Quindi snack Mi mangio Questi Ogni tanto non muoiono proprio Mai visto quanto molto Non mi hanno sparato Molto e molto è l'unico Molto è la testa Sì 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 Vero Sì ma gli abbiamo sparato 25 colpi Occhio Ne avete anche a sinistra Poi Sta arrivando Allora piano Mi tiro un altro giubbotto Purtroppo non mi aspettavo Quello non morisse Quindi Fatto C'è una destra Sì 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 Ok Potevi anche spararmelo Eh ero dietro qua al muro Fatto Ok quello ricordatevi Che non possiamo colpirlo Esatto Dietro di noi Dietro di noi Dietro di noi Ricarico Mi tiro un giubbotto Ucciso Vai Ok Ottimo Ottimo Avanziamo Forza andiamo Che non lo hai in fondo ragazzi ancora Allora venite in questa parte Due sparano e due fanno i tasterini Ok Se hai fatto i tasterini Io faccio i tasterini Con Fere Ok vai Mark Vieni 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 Vieno Forza 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 Arriva 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 Premuto e Bravi Aspetta 3 2 1 Invio Ok Raga ne arrivano tanti Non riesco a ucciderli Andiamo Mi sparano Scappo 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 Sono tanti Raga Sono tanti Via 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 Bravissima Vai Ok Erano tanti Hanno una mitraglietta L'ho sentita Ok Ragazzi curatevi un attimo adesso Prima di andare avanti Io sono un foglino Non ho ancora sprecato niente Raga assurdo Allora Non posso Sì Non me la fa aprire Continuate a correre Ora potete Ora potete Ora potete Quindi snack Ok Giubbotto non lo spreca ancora Perché ne ho più di metà Andiamo 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 Ok Allora io tolgo l'arma Per fare più Saltate Ma dimmi te Che alla fine Non riusciamo mai Fare un piano Come dovrebbe essere fatto Vabbè Sempre la vecchia maniera Però almeno divertente No Steph Dai non dare le colpe Steph ho visto la scena Era totalmente senza senso Allora è impazzito E ha iniziato a sparare Uno che mi dà una mano Con i trappani Anche se come l'avete Tipo toccato Ma cosa Allora sfiori Per sbaglio una persona E lui si arrabbia E ti spara Ma che mondo è Steph Non lo so Spiegami che mondo è Non ha senso di esistere Allora Primo disco rotto Ok bravi Poi Quasi è andato il secondo Ma perché a me è più niente Perché sono più bravo Due andati Ma Io tengo spam premuto Perché non lo faccio Surriscaldare Perché lo tengo leggero Leggero Bravo Tre andati Dalla vita in città Ho imparato qualcosa E Finito Ok Olè Marcia che punto c'hai? GG Ho quasi finito il quarto Forza Mi raccomando Rubate tutto quello che vedete Tutto eh Ok Tutto Tutto Tutissimo Cerchiamo di non hackerare Secondo me perdiamo un po' di tempo Quando hackeriamo Anche secondo me Quello si Quello si Non ce la fa eh Ah l'ho fatto Ok ok Ce l'abbiamo fatta? Ho avuto difficoltà con l'ultimo Bravo Guarda quanto è lento Iuppi Forza Non ci siamo mai entrati qui dentro È bello No ragazzi è la prima volta Guarda che bello Gli sacchi soldi ci saranno Eh che bello Dobbiamo cambiare le affaline Comunque vi ricordo La conosco più di casa mia La conosco più di casa mia Soldi Vai Soldi Qua davanti c'è già un coso Prendeteli Io voglio il carrellino Questi hanno un sacco di soldi Eh sì I carrellini sono le cose migliori Sono ottimi Ok Vai 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 rubiamo Io sto scassinando ragazzi Guardate quanto salve Qui sono di veloci Vai vai Rubate tutto Premete Premete più veloce Io sono ancora metà carrello Ok Dai siamo più di mezzo milione Bravi Io cosa hai finito il mio? Io posso Certi che potresti prendere le banconote a due a due le mazzette eh Non una una Eh ma perché teni la borsa aperta così non può sbagliare Io ho finito? Ok ho finito C'è un carrello e ne ho finito pure io Cerco qualcos'altro Di qua c'è un carrello alla F e alla G Ci sono le porte giacchierate aperte Io voglio uscire Ho schiacciato ragazzi Eh ormai hackerà La porta G La porta G Ragazzi Siamo a un milione e uno Faccio qualche cassetta di sicurezza raga io Sì trenta secondi Un milione e due Cassetta di sicurezza Ottimo ottimo raga ottimo Un e tre Un e tre cinquanta Un e quattro Bravi bravi Speriamo l'un e sei secondo me eh Un milione e mezzo Un milione e mezzo Andiamo 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 Un milione e sei Sì lo facciamo Trentanove secondi Un e sette Andiamo 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 forza Iniziamo a togliere il tutto Faccio l'ultimo Un milione e sette dai che facciamo un milione e sette Forza 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 Sto arrivando Arrivo Niente milione e sette Niente milione e sette Uno pronto qui come è Tutte le cassette di sicurezza ragazzi erano tutte piene Già in posizione Chi è questo? È bene? Arrivo 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 No 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 Io sono qua Vai tu Vai tu Marco vai tu Vai 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 Premete Tre Due Uno Invio Ok Questa è la perfetta Che ansia Mamma mia quanto siamo coordinati Steffo Pronti con la pistola Pronti Bye